ciao a tutte e tutti volevamo proporvi come sinistra classe rivoluzione la nostra ultima pubblicazione l'imperialismo fase suprema del capitalismo un libro che è stato scritto oltre un secolo fa da lenin ma che è assolutamente attuale dietro all'opuscolo c'è uno studio dettagliato in cui lenin ha letto analizzato e confrontato centinaia di articoli e di libri in un dibattito che si svolse nella internazionale socialista gli interlocutori dell'epoca erano personaggi come hobson hilferding kowski rosa luxemburg imperialismo fase suprema del capitalismo e altresì definito un saggio popolare proprio per il gigantesco sforzo di sintesi fatto da lenin per renderlo accessibile alle masse il libro è corredato da un'introduzione in cui ci sforziamo di mettere in relazione lo studio dell'imperialismo con le teorie che si sono sviluppate successivamente dai teorici della dipendenza ai cosiddetti post operaisti ai rappresentanti della scuola dei sistemi mondo fino a molti intellettuali di sinistra che hanno tentato di riabilitare le concezioni pseudo pacifiste di kowski contro cui lenin scrive in questo in questo puscolo capitalismo è passato attraverso molte fasi di sviluppo la sua fase mercantile a quella manifatturiera infine a quella industriale e questi cambiamenti che hanno accentuato la dinamica del del modo di produzione capitalista ne hanno anche accentuato le contraddizioni lenin definisce la fase imperialista del capitale è quella in cui le forze produttive e le relazioni sociali di produzione entrano in contraddizione questa fase comincia a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo e si approfondirà sempre più dopo le due guerre mondiali fino ad arrivare ai giorni nostri dove assistiamo a una situazione nella quale la concentrazione del capitale industriale del capitale bancario non è mai stata così profonda come in questo momento tutto questo rende particolarmente vivo nella realtà di oggi quello che è stato lo studio di marx esposto nel capitale mi riferisco ai capitoli in cui lui parla della centralizzazione dei mezzi di produzione a cui lenin si riferisce nel nel suo testo e espone la formazione dei dei monopoli la concentrazione e la fusione tra il capitale bancario e il capitale industriale che porta alla nascita del cosiddetto capitalismo finanziario dopo la guerra abbiamo assistito a un certo periodo di anni di boom economico e poi c'è stata la fase della cosiddetta globalizzazione in questi anni molti intellettuali che si definivano marxisti hanno tentato di rivedere le concezioni di lenin in particolare nel 2002 nel pieno del movimento contro la globalizzazione venne scritto un libro da toni negri impero in cui si tentava di demolire tutto quello che è il pensiero contenuto in questo in questo libro noi vogliamo riabilitare il pensiero di lenin è necessario certamente aggiornarlo con gli sviluppi recenti dalla nascita di nuove potenze imperialiste come la cina a livello globale così come la russia a livello regionale e dare una spiegazione profonda e non superficiale del conflitto che si sta sviluppando in ucraina così come quelli che recentemente abbiamo visto in afghanistan in siria e in libia solo il marxismo può dare risposte corrette a questi fenomeni e offrire quella alternativa che oggi è più necessaria che mai la trasformazione in senso socialista della società in una edizione agile ma allo stesso tempo ben curata a solo 10 euro potete acquistare l'imperialismo fase suprema del capitalismo